Ben trovati con il TIGILIS di Telebari, caos mense scolastiche a Bari. La ditta alla DISA ha presentato e ottenuto dal TAR un'ordinanza cautelare urgente di sospensiva sul servizio di rifezione scolastica anche nelle scuole del secondo lotto che comprendono circa 3.500 alunni a tempo pieno sul totale di 4.500 città. Il ricorso è stato notificato giovedì, subito dopo, che il Comune ha annunciato l'avvio della mensa per le scuole comprese nel secondo lotto da Madonnella a Iapigia, da Torriammare a San Pasquale. Comunicazione a cui hanno fatto seguito le circolari di molti dirigenti scolastici. Indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, l'ex dipendente della filiale di Banca Intesa San Paolo, la filiale di Bisceglie, licenziato ad agosto per aver spiato i conti correnti di 3.572 clienti dell'istituto, tra cui la Premier Giorgia Meloni. Ufficiali di Polizia Giudiziaria, incaricati dalla Procura, hanno perquisito la casa dell'ex dipendente e sequestrato smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici che saranno oggetto di verifiche forenzi. Migliaia i nomi di titolari di conti correnti sbirciati e monitorati dall'ex dipendente nel mirino, militari e VIP, soprattutto politici, a partire dalla Premier e sua sorella Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Nessun rilievo disciplinare procedimento archiviato, si chiude così la vicenda che ha riguardato il centrocampista del Bari, Nicola Bellomo, dopo la sua espulsione nei play-out con la Ternana e alcune scommesse registrate sul suo cartellino rosso. Il Bari, con una nota, ha fatto sapere che le indagini della Procura federale FIGC relative al procedimento originato a seguito delle notizie pubblicate sul Fatto Quotidiano, aventi ad oggetto proprio l'espulsione del calciatore Nicola Bellomo durante la gara Ternana-Bari del 23 maggio 2024, non hanno evidenziato alcuna fattispecie di rilievo disciplinare e che dunque il procedimento è stato archiviato. È stato individuato uno degli autori degli abbandoni seriali di rifiuti e ingombranti nella città vecchia di Bari. La polizia locale, dopo un'attività di pedinamento e con l'aiuto di telecamere e di videosorveglianza, è riuscita a rintracciare l'uomo nonostante quest'ultimo avesse fatto sparire l'apecar che utilizzava quasi esclusivamente nel centro storico. Il mezzo è stato individuato ancora una volta a carico di materiale da smaltire. Fermato dagli agenti della municipale è emerso che il conducente guidava il mezzo senza patente e senza che fosse effettuata la revisione del mezzo. L'uomo è stato denunciato per trasporto di rifiuti senza autorizzazione e l'apecar è stato sequestrato. Treni ancora a rischio nella serata di sabato 12 e praticamente nell'intera giornata di domenica 13 ottobre. La circolazione potrebbe risentire dello sciopero nazionale indetto dalla CUB Trasporti per rivendicare la piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti dell'impresa che svolgono attività ferroviaria sia merci sia viaggiatori. Gli orari dello stop vanno dalle 21 di sabato alle 20 e 59 di domenica. Non sono previste fasce di garanzia come nei giorni feriali. Con i suoi 118 mila occupati Bari è la prima città del mezzogiorno e la nona in Italia per livelli di occupazione. Dal 2019 al 2023 la crescita ha superato il 4%. Sono alcuni dei dati illustrati durante la presentazione a Palazzo di Città di Bari Lavora, la nuova strategia per il lavoro del capoluogo pugliese. Il numero di aziende italiane no che scelgono di investire a Bari e nella sua area metropolitana è aumentato. Nonostante risultati positivi però è anche emerso come le donne over 35 e gli uomini over 45 riscontrino maggiore difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro. Ed è per questo motivo che in aggiunta ai numerosi servizi offerti da Porta Futuro l'amministrazione comunale ha deciso di avviare per il triennio dal 2024 al 2026 le misure intitolate Tiambara e Tiaperd e la fatica. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Una lite tra due uomini è degenerata in accoltellamento e accaduto nella tarda serata di giovedì in pieno centro a Lecce intorno alle 22. Un trentenne si sarebbe presentato nell'appartamento della sua fidanzata. Entrando in casa non avrebbe solo trovato la 24enne ma anche un uomo di 50 anni con il quale sarebbe nato un litigio. Durante l'iverbio sarebbe spuntato un coltello presumibilmente preso dagli utensili da cucina. Con l'arma il trentenne avrebbe colpito alla spalla l'uomo di 50 anni per poi darsi alla fuga facendo perdere le sue tracce. Trasportava in un'auto o autovettura un chilo di cocaina. Uno straniero è stato sottoposto a fermo auto e droga sono state sequestrate dalla polizia locale. L'uomo è stato fermato sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. L'automobilista, parso nervoso al momento dei controlli, ha insospettito gli agenti che hanno proceduto con la perquisizione della vettura recuperando l'ingente quantitativo di droga. La sua posizione è al vaglio della magistratura. Martedì 15 ottobre a partire dalle 15 si terrà nello stabilimento siderurgico di Taranto una cerimonia per l'accensione e la ripartenza dell'alto forno numero 1 fermo d'agosto 2023 per manutenzione alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso e dei commissari straordinari di Acciaieria d'Italia. Attualmente nello stabilimento è in funzione solo l'alto forno numero 4 mentre oltre all'alto forno 1 che ripartirà la prossima settimana anche il 2 fermo da gennaio scorso è sottoposto a interventi di manutenzione. Il decreto legge piante dosi che regola la gestione dei soccorsi in mare e prevede il fermo delle navi delle ONG avrebbe profili di incostituzionalità e quanto ritiene la giudice del Tribunale di Brindisi, Roberta Marra che ha rimesso gli atti alla consulta poiché non sarebbero manifestamente infondati i profili di incostituzionalità. La decisione è giunta nell'ambito del procedimento sul ricorso contro il fermo della Ocean Viking di SOS Mediterranea disposto il 9 febbraio scorso a Brindisi dalla Guardia Costiera per presunte violazioni del decreto. La giudice Marra aveva già accolto sospendendo il fermo ricorso dei legali della SOS Mediterranea Francesca Cancellario e Dario Belluccio. E con il TgList è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Grazie a tutti.